Buongiorno Matteo, ho appena finito lezioni in università e devo uscire dall'edificio. La mascherina che fine fa? Buongiorno Andrea, non ti preoccupare. L'Università di Verona ha provveduto a dotarsi di contenitori per lo smaltimento differenziato delle mascherine. È vero, si tratta più sempre di fiuti urbani differenziati, ma visto che è molto delicato, abbiamo preferito di doverci attenuare alle indicazioni ministeriali e di provvedere allo smaltimento differenziato. E perché l'Ateneo si è mossa in questa direzione? L'iniziativa si colloca all'interno della transizione ecologica Univier, come potrai anche vedere dai colori e dal brand che abbiamo creato per questo tipo di iniziativa. D'altra parte la scelta ecologica è sostenibile anche nei materiali del contenitore perché il materiale si chiama polipropilene alveorare ed è al primo stadio, al primo ciclo di vita e può essere addirittura riciclato per ben tre volte. E questi contenitori dove li possiamo trovare all'interno dell'Ateneo? Le indicazioni ministeriali dicono di collocarli presso gli accessi. Ecco, nel caso tuo che stai uscendo dall'Ateneo si tratterà delle uscite. Grazie a tutti. Grazie a tutti.